Rosa Nero Ale, impazzisco per te, e dovunque sarai non ti lasceremo mai, Rosa Nero Ale, impazzisco per te, e dovunque sarai non ti lasceremo mai, Rosa Nero Ale. E' un'emozione indescrivibile, anche perché nel 2004 io avevo solo 12 anni, quindi questa me la sono vissuta a pieno. Siamo più forti che 12 anni fa, anche se dovremmo migliorare per la Serie A, questo è importante. Bellissimo, un'emozione è grandissima. Siamo l'uomo, la Chino Santa Canta del Sien, Chino Santa Canta del Sien, Chino Santa Canta del Sien, Chino Santa Canta del Sien. Sarà aspettative high per il prossimo anno. Aspettiamo noi una grande squadra che ci riporta in Europa, forza Palermo. Dobbiamo come minimo rimanere, essere tranquilli, fare acquisti, e non dobbiamo rimanere come l'anno scorso, non dobbiamo scendere più. Non vogliamo la luna, vogliamo solo restare in serie, vogliamo puntare all'Europa. Speriamo di sì, però noi dobbiamo comprare i giocatori. Il Palermo è stata una grande squadra quest'anno, abbiamo battuto tutte le squadre della Serie B. Salta Palermo! È stato un Palermo grandioso che ha veramente dimostrato la superiorità in Serie B, ma a livello di tutti i giocatori, sono stati uno più bravi di un altro, è veramente un grande Palermo. O possiamo andare a Champions, ne pichiamo a Champions o possiamo andare, però zampare una cattaria di giocatura, a Champions. Cosa vi aspettate dall'anno prossimo? Hai già una tranquilla salvezza, non ce la sai. La salvezza, piano piano, la salvezza. Ci accontentiamo di poco, a poco a poco. Una squadra migliore, è un campionato perfetto come quello dell'anno scorso, ma un campionato perfetto è forte Palermo! È Europa? Ci può puntare Palermo? Sì, ci possiamo puntare! Io voglio superare la salvezza e la Champions League! C'è! Beh, almeno un campionato discreto, non fare la stessa fine dell'anno scorso. Cosa ti aspetti dalla prossima stagione? L'Europa, vogliamo l'Europa! Rosalero! Secondo te riusciremo a battere il record di punti della Serie B? Sì, no, la Serie B, pure quello della Juve. Saremmo il record di punti della Serie B? Sì, la voglia! La sua piccarea! Palermo è il nostro posto, dove ci meritiamo di stare! Grazie ragazzi, grazie, grazie! È giusto che Palermo merita la piazza della Serie A, quindi non possiamo che altro essere contenti per la città, per lo sport e per tutti i palermitani. Grande Zambarini! Grande Zambarini! È tornato Zambarini! Oggi dell'Europa! L'Europa! La motivazione e l'orgoglio, la cosa più bella è finita l'incontrare, che noi in Serie A e loro ritornano in B, è un'emozione indimenticabile per la società. A me mi piacerebbe avere sempre Iacchini, perché è un allenatore con le corna dure, come si può dire. E questo Palermo ha dato orgoglio alla Sicilia, quello vero, che siamo noi. Palermo secondo! Chi è stato decisivo? Barreto, 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 il numero uno del Palermo. Quest'anno Baschitz non era considerato all'inizio e poi per fortuna l'hanno messo in campo. Baschitz, Baschitz è una grande rivelazione di quest'anno, Baschitz è la rivelazione di quest'anno. Ma non c'è un giocatore in particolare, non c'è un giocatore, comunque Barreto ha già fatto la sua, Di Bala, tutti, tutti, non ce n'è uno in particolare. Forza Palermo! Forza Palermo! Almeno, 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 di segno, di segno, di segno, di segno! Siamo almeno, almeno il terzo posto! Almeno! Almeno! L'uomo l'anno prossimo attestito! Grazie al mago Iacchini! Almeno! Almeno! Basta Palermo! Iacchini! Grazie al mago!